Una vittoria da dedicare a Giuseppe e ad Emanuele Alabiso nel giorno dei loro funerali. Il Gela scenderà in campo con l'alutto al braccio e prima della gara sarà osservato un minuto di silenzio. È stata una settimana triste per i giocatori in maglia bianca-azzurra a seguito del gravissimo incidente aereo che ha causato la morte di due tifosissimi della squadra gelese. Emanuele, 26 anni, era un tifosissimo del team allenato dal tecnico Toto Brucculeri. Era sempre in curva ad incitare Campanaro e compagni. E per domani i supporters della curva Angelo Boscaglia lo ricorderanno. Per loro era Nero e Svizzero. Attraverso una locandina i tifosi del Gela dicono tra l'altro che tutto passa in secondo piano. Tutto viene messo da parte dinanzi allo strazio per avere perso un amico, un ultra, un rappresentante del vecchio stile. Uno di noi, oltre il dolore, Svizzero nel cuore. Tornando all'aspetto prettamente agonistico, la formazione è tanto cara al presidente Angelo Tuccio. Dopo l'esploata di domenica scorsa a Campofranco ha un solo obiettivo da conseguire e si chiama successo. Pandolfo e compagni affronteranno la profavara, ultima in gradatoria. Impegno facile sulla carta, ma solo sulla carta. Qualche domenica dietro i giovesi furono fermati sul pareggio 2-2. Dalla libertà sarà calmuto team dallo scarso contenuto tecnico con tutte le discussioni prevedibili che ne scaturirono. Dunque è meglio non fidarsi delle apparenze. Vincere domani avrebbe un effetto dirompente in classifica. I giovesi infatti sono a tre punti dalla capolista Dattilo Noir che se la vedrà in trasferta col Mussomeli. Ed in questo caso si tratta di una partita che nasconde parecchie insidie. La San Cataldese, che ha un punto in più rispetto al Gela, se la vedrà in casa con l'Alba Alcamo. Trasferta invece per la Folgore che ha gli stessi punti dei Biancazzurri contro il Camarat. Gela Profavara avrà inizio alle 15. Nel torneo di promozione invece l'altretico Gela, terzo in aggreditoria, giocherà a Ragusa contro la quarta della classe. Si prevede una gara dagli alti contenuti tecnici. Il team allenato da Peppe Misiti fila come un diretto. Nelle ultime tre gare ha conquistato altrettanti successi.